E' di un uomo il cadavere trovato in strada alla Mezzia nella mattinata di oggi. Il corpo è stato trovato in un tratto di strada che costeggia la linea ferroviaria tra la Mezzia Terme Centrale e la Mezzia Terme Nicastro. Sul posto si sono recati gli agenti del commissariato di la Mezzia Terme e della Polizia Ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione non si tratterebbe di omicidio e la morte potrebbe essere avvenuta per cause accidentali. Il corpo deve ancora essere identificato e gli inquirenti stanno lavorando sulle cause esatte della morte.